Non è stato un omicidio premeditato, per questo motivo la Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila ha ridotto a 19 anni la condanna di primo grado a 30 anni di reclusione infritta a Vincenzo Gagliardi dal giudice di Pescara. Anche per i giudici dell'Appello è stato l'impiegato delle poste a sparare ad uccidere Carlo Pavone, ingegnere 49enne di Montesilvano, raggiunto da un colpo di pistola la sera del 30 ottobre del 2013 mentre stava gettando la spazzatura nel cassonetto sotto casa e morto dopo un anno di coma. La Corte, presieduta dal giudice Luigi Antonio Catelli, ha maturato la decisione dopo circa quattro ore di Camera di Consiglio e alla lettura della sentenza Gagliardi, presente in aula, non ha esternato alcuna emozione. All'ultimo atto del processo d'Appello erano presenti anche i familiari della vittima, la sorella Adele Pavone, il fratello Rocco e la madre Concettina Toro, tutti costituiti si parte civile. I giudici aquilani per loro hanno confermato le provvisionali di 150.000 euro a testa e di 200.000 euro per i due figli della vittima. Non è stata accolta dunque la richiesta del procuratore generale Romolo Como che nel corso di una precedente udienza aveva chiesto la conferma della condanna emessa dal GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco, ovvero l'ergastolo ridotto a 30 anni di carcere per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Le motivazioni che hanno portato alla decisione dei giudici aquilani si conosceranno soltanto il 14 di agosto.